Buongiorno ragazze e ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi vi presento due borsette, con varie cose dentro, pennarelli, pene, temperini. Però prima devo salutare, salutare, devo fare un saluto ad Alessia D'Angio. Un bacione e un abbraccio fortissimo. Ora vi presento queste qua. Vi presento prima questa. Apriamo e vediamo che cosa c'è. La prima è questa. Questa qua. Ed è viola. Viola così. Con il tappo. Ve le faccio vedere anche come scrivono. Viola chiaro questa è. Non è così. Così. Quella prima. Poi c'è questo temperino. Guardate. Temperino. Dentro c'è il temperino. E ha gli occhietti. Può essere anche una portifoglio. Che porta ai fogli. Un pesciolino che porta ai fogli. Guardate. Una molletta. Guardate. Due cose. Una portata. Hello. Ed è molto sfizioso. Si possono temperare i colori. E possono portare i fogli. Con gli occhietti che si muovono. Ok. Poi c'è questa qua. Ed è sempre viola scuro. Questo è viola chiaro. E questo è viola scuro. Non si vede molto bene. Nemmeno. Così. Via la scuro. Vediamo come scrive. Ed è questa qua. Via la scuro. Poi c'è questa qua. Blu. Ed è molto bella. Vediamo com'è. Ed è così. Poi c'è questa qua. Sempre viola chiaro. Chiaro. Però un poco più chiaro di quella. Un poco più chiaro. Così. Poi c'è questa qua rosa. rosa. Che è la mia preferita. E scrive così. Così. Questa qua. È molto bella. Poi c'è questa qua gialla. Florescente. Florescente. Così. Vediamo come scrive. Ed è così. Questa qua gialla. Poi c'è questa qua. Che sembra una pena. Però è una matita. Con la gomma. Sopra. Così. Vediamo come scrive. Scrive così. Si cancella anche. Si cancella anche. È cancellato. Però si vede ancora un po'. Non cancella molto bene. Ed è questa qua. Puà. Vediamo un po' che puà. E' così. Poi c'è questa penna. Questa penna. Rossa. Glitterata. Con i brillantini. Si. Che non si vede molto i brillantini. Però ci sono. Non si vedono. Da. Poi c'è sempre questa qua nera. Sempre. Ugale. Solo di diverso colore. Glitterata. Un po' glitterata. Ok. Quasi questa qua. Fucsia. Sempre così. Sono tre uguali. Un diverso colore. Questa qua. Vediamo. È sempre glitterata. Non si può. Così. Così. Poi c'è. Questo. Questi colori. Ci sono questi colori. E ci sono. Semini. Semini. Matite colorate. Semini matite colorate. Di alta qualità. Così. Apriamole. Ed eccole aperte. Vediamo come sono. Queste verde. Rosso. Giallo. Azzurro. Marrone. E nero. Guardate. Questi qua sono. Verde. Rosso. Giallo. Azzurro. Marrone. E nero. Guardate. Sì. Qua. Ok. Poi c'è. La colla. Con il tappo. Rosso. Ed è azzurro. Sì. Così. Poi c'è. Questo glitter. E anche quest'altro. Glitter. C'è scritto glitter. Glue. Glue. Non lo so. Vediamo com'è. E' tutto brillantinato. No. Lo devo spaventare. E' com'è. E' molto bene. Mi piace molto. E' anche questo qua rosso. Sempre uguale. Ed è così. Brillantinato. Così. Poi l'ultima. E' la gomma. E' la gomma. Ok. Ora apriamo un'altra borsa. Questa qua con il cagnolino. Che di mia sorella. Che di mia sorella. Apriamo e vedremo che cosa c'è dentro. Abbiamo trovato questa pallina. Che tempera. Guardate. C'è il temperino. E può essere un portapenne anche. Guardate. Un attimo. Può essere un portapenne. Così. Guardate. Ci sono questi buchini. Oppure un meglio portacolori. Che sono più piccoli. Ci entrano meglio. E la tempiera va dentro. A questo. Guardate. Dentro. Alla palla. Poi c'è. La forbice. Tagliamo un po'. Che taglia molto bene. Che taglia bene. Poi c'è. Questo evidenziatore. Forforescenti. Giallo. Vediamo subito com'è. Ed è così. A me piacciono molto i colori. Forforescenti. E fluorescenti. Così. È molto bello. Poi c'è. Questa qua. È sempre rosa. Rosa chiaro. Ed è così. Poi c'è questa qua. Che profuma di banana. Guardate. Profuma di banana. Che bello odore. Ed è glitterata. Così. Ed è gialla. Poi c'è questa qua. Ed è viola. Questa prima viola. Scura. Questa. Ok. Poi c'è questa qua. Questa penna bicolor. Che ha vari colori. Vari penne. Varie penne. C'è. C'è rossa. Nera. Verde e blu. Guardate qui. Ho fatto delle strisce. Per far vedere. Ed è verde qua. E' così. Che per far uscire la punta. Si premono i colori. Chi non lo sa. Ed esce la punta. Poi ci sono questi colori. Sono sempre uguali a questi qua. Senza che vi li faccio vedere. Sono tali e quali. Poi c'è questa colla. Con il tappo blu. Ed è rossa. Guardate. Una colla. Così. Poi c'è questa qua. Questa penna. Ad arancia. Profuma di arancia. Molto buono l'odore. Profuma di arancia. Ed è glitterata. Color arancione. Vabbè. Glitterata. Poi ci sono questi glitter. Che sono rossi. Sempre uguali a questi qua. Uguali. Sono rossi. Poi c'è questo scotch. Questo piccolino. Poi c'è questa gomma. Fine. Fine del video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete il like. E iscrivetevi al mio canale. Ciao. Al prossimo video.